Forza, forza, forza! Forza! Ok, quando arriveremo a 8 minuti, se dovresti arrivare a 8 minuti, mi farò alzare un piede. Braccia tese, Awed! Resiste altrimenti sarà... Non mollano 8 minuti! Incredibile! Awed, ti voglio chiedere di portare le braccia un po' più su, un po' più su, ok? Più su! Pese, più su! Dai, dai, dai! Forza, forza, attenzione! Attenzione, attenzione! Dritti, forza ragazzi, non cedete, se non ce la fate più, più forte di me! Ok, adesso passate a una gamba sola, la gamba destra, ragazzi! La gamba destra! Forza ragazzi, tutte e tre insieme, gamba destra, sulla gamba destra! Ragazzi, la gamba destra la conoscete? È uno che sbaglia! Sulla gamba destra, Angela! È la sinistra questa! Grazie a te, Awed! Awed! Vabbè, va bene lo stesso, l'importante è che stiano sbagliando! Awed ha toccato! Eliminato Awed! Ok, continuiamo con le toccate! Awed, dice che non ha toccato! No, non ha toccato! Dice che non ha toccato! Ragazzi, va bene! Ragazzi, io ho la regia che guarda i dettagli, quindi non sono soltanto io! Purtroppo Awed, levati! Niente, Awed! Ok, puntiamo questa sfida! Sono rimaste Angela e Mireia, sono passati nove minuti! Attenzione, attenzione! Ecco Mireia, andare! Mireia e Angela! La sua gara è di Angela a vincere! Angela vince la terza sfida, complimenti! Sì, veramente a tutti! Sì, veramente a tutti!